Chi è l'incedibile di questo Milan? Mignan e Teo. Più di Teo Hernandez? Mignan e Teo. Sono lo stesso livello? Sì, Mignan e Teo sono i due grandi campioni. Ho detto incedibile, è chiaro che non voglio perdere Tonali, non voglio perdere tanti giocatori. Però a livello di carisma eccetera, mettiamola così. Mettiamo anche Tonali, perché è italiano, perché è minanista. Tonali, Teo e Mignan non si devono cedere, ma Mignan credo che sia incedibile.